ciao ragazzi come state allora sto assaggiando la corvina veronese 2020 della tenuta falezza è un 2020 la corvina come molti di voi appassionati sapranno è un vitigno che rientra nel luvaggio dell'amarone e praticamente invece questa è in purezza non so se riuscite a vedere il colore comunque sia utilizzano un leggero appassimento delle uve quindi qual è la differenza magari che potete trovare con altre corvine qui usano quella fanno un leggero appassimento quindi è una corvina che lavora molto sulla morbidezza sulla delicatezza sull'eleganza sul frutto un po assopito sulle note morbide anche un floreale su delle note speziate calde quindi diversamente da altre corvine in purezza che ho sentito ogni tanto mi capita di sentire dove non c'è magari questo sistema di appassimento trovi magari un frutto una spezia molto più dritta comunque comunque sia tutti e due gli stili molto piacevoli qui c'è in questo caso c'è eleganza piacevolezza è un'azienda che non so se la vedete se avete visto questa bottiglia in giro perché è un'azienda che lavora ha lavorato molto sull'estero ed effettivamente lo stile ti riporta un po sul su quello che possono essere mercati esteri la giusta freschezza acida un ritorno piacevolissimo appena appena erbaceo quasi balsamico tra le note fruttate l'abbiamo abbinato ieri sera con del gorgonzola gorgonzola e pane caldo e vi dirò che ci siamo divertiti ciao ragazzi